È garantito in alcuni aspetti essenziali, in altre parti ogni tanto viene messo in pericolo. Questo è uno dei casi in cui il principio democratico, cioè la rappresentanza, l'esercizio della sovranità popolare, la partecipazione dei cittadini, con due provvedimenti quasi contemporanei, vengono messi in discussione. Noi vogliamo che invece si decida il contrario, più partecipazione e più diritti.